Buongiorno a tutti, allora volevo fare una piccola pillola su questo nuovo governo perché siamo messi malissimo, non male. È un governo che è in perfetta continuità con i precedenti, un governo totalmente prono all'Unione Europea, atlantista e che proseguirà nella distruzione del Paese. Bastano i nomi per comprenderlo. Abbiamo un Giorgetti all'economia, Giorgetti insomma il fautore del pareggio in bilancio in Costituzione, qualcuno che ai tempi di Monti era entusiasta dell'austerità e del rigore per portare avanti le politiche imposte da Bruxelles. Quindi colui che insomma in Lega dicevano che era minoranza o che comunque non era lui la Lega, in realtà lui è sempre stato e solo lui il capo vero, il vero capo politico della Lega e oggi appunto nel ministero più importante proseguirà con l'austerità. Abbiamo Nordio alla giustizia, Nordio è uno che a noi che non abbiamo voluto fare il trattamento sanitario ci manderebbe direttamente in galera, ha fatto dichiarazioni veramente incredibili, andatevele a rivedere negli ultimi periodi. Sempre per quanto riguarda il settore sanità abbiamo Schillaci, Schillaci è meno noto ma lui è stato messo a lease direttamente da Speranza, quindi è un uomo che ha avuto un posto e un ruolo nella gestione pandemica proprio in virtù delle decisioni di Speranza ed era anche il rettore dell'Università di Tor Vergata e dal rettore si rilasciò tutta una serie di dichiarazioni entusiaste sul Green Pass per gli studenti, quindi insomma una posizione purtroppo molto chiara in totale contrasto con le promesse da Marinaio fatte da Giorgia Meloni in campagna elettorale. Altri nomi? Beh l'ultraeuropeista Scaiola che sarà anche vice premier, insomma lo conosciamo, abbiamo Guido Crosetto che magari a livello economico qualcosina in più rispetto a un Giorgetti lo direbbe ma è un forte fervente atlantista e quindi è stato inserito nel governo per le sue posizioni antirussia per confermare insomma una linea che ci porta ahimè al rischio anche di una terza guerra mondiale. Poi abbiamo la Casellati quindi che proseguiamo anche qui in perfetta continuità quindi tutta una serie di nomi voglio dire che non lasciano sperare nulla di buono e soprattutto ve l'ho detto i nomi che davvero contano per quelli che erano i nostri punti centrali programmatici sono quello di Giorgetti all'economia e quello ovviamente di Schillaci e Nordio a Giustizia e Sanità. Con questi tre nomi sappiamo che ahimè la battaglia per la libertà dovrà continuare, dovrà essere rafforzata, avremo davanti un periodo durissimo. Quindi un giudizio totalmente pessimo, ora aspettiamo i primi consigli, il primo consiglio dei ministri, le prime misure ma è chiara qual è la rotta e purtroppo c'è poco di cui stare allegri. Un caro saluto.